Quanto man of the match in Champions League, ho tenuto io il conto, ci stai prendendo il vizio? Eh sì, sono contento, sono contento perché abbiamo vinto una gara importante, una gara non è facile contro una squadra giovane che hanno tanto entusiasmo, tanta forza, che corrono tanto, però alla fine ha vinto esperienza, diciamo così, dai, e sono contento. Il premio è meritatissimo perché al di là del gol è sempre più prezioso il tuo apporto nella fase difensiva ed è sempre più utile anche perché è un Inter molto propositivo e quindi questo poi aiuta la squadra a non rimanere scoperta dietro. Quanto stai lavorando per crescere da questo punto di vista? Ogni giorno, sto lavorando ogni giorno per crescere, per migliorare, mi piace dare una mano in fase difensiva, credo che sono cresciuto in quel loro ruolo e c'è ancora tempo di migliorare sicuramente, però questo è arrivato dal nostro staff tecnico che mi hanno dato una grande mano, io darò sempre il massimo. Quando sei all'Inter, nove rigori su nove, non ne hai sbagliato uno, quanta frettezza del dischetto. Speriamo che continui così, no, l'ho detto già prima, da fuori magari si vede semplice segnare, però uno a uno, se sbagli magari pareggi, io quando c'è il rigore mi concentro veramente al 100% per non sbagliare e sono contento che non ho sbagliato. Poi oggi avevi anche San Siro che ti caricava, questo pubblico sempre presente. Sì, ma queste cose non si può spiegare, ho detto già prima, lo ringrazio per questo sostegno veramente incredibile e lo darò tutto con questa omaglia. Grazie per tutti questi, forza per questo grande mano, credo che non è semplice e loro vedono che io darò sempre tutto in campo, loro mi danno qualcosa e io proverò di dare qualcosa indietro. Assolutamente, grazie mille. Grazie, grazie. Ciao Davide, congratulazioni per la vittoria. Oggi bellissima l'azione che poi porta al rigore che ti sei procurato, Lautaro costruisce, tu vai a prenderti questo rigore, sei sempre più importante all'interno di questa squadra. Diciamo che ogni giocata che facciamo poi è fatta in base a delle tattiche che proviamo spesso nell'allenamento, quindi quello che facciamo con il mister dà i suoi frutti. Poi l'importante è che abbia portato un vantaggio alla squadra. Loro sono una squadra che attacca tanto, quindi ogni tanto lasciavano anche qualche buco, tra virgolette, in difesa che favorivano i vostri inserimenti, gli inserimenti che sono il tuo punto di forza. L'avevate preparata in questo modo? Sì, l'avevamo vista sul proiettore che era una squadra che comunque veniva forte a pressarci ma che lasciava dei importanti buchi dietro. Quindi l'abbiamo preparata anche così, poi siamo stati bravi a tenere duro nel primo tempo e poi uscire alla distanza e a tenere il risultato alla fine. A proposito di inserimenti, non soltanto tu, ma all'interno dell'Inter vediamo sempre più giocatori che cercano di sfruttare gli inserimenti. Quanto state lavorando su questo per essere sempre più imprevedibili? Come dici tu, è proprio questo il segreto, che tutti possono da un momento all'altro inserirsi e creare scompiglio nelle difese avversarie. Chiaramente poi se ogni volta un giocatore fa lo stesso movimento poi gli altri ti conoscono e ti marcano prima. Quindi avere la possibilità di intercambiare i calciatori e inserirsi magari una alla volta è sicuramente un vantaggio. Grazie mille. Grazie a voi, vederci. Ciao Carlos, questa sera grandissima prestazione, tra l'altro hai sfierato il gol due volte, il primo sul secondo palo, il secondo di testa. L'anno scorso hai segnato tanto, quanto stai crescendo quest'anno all'Inter? No, prima di tutto sono contento di giocare questa partita, è la prima San Siro titolare. I miei compagni, i staff mi aiutano tanto e manca poco, perché prometto che lo farò e avere pazienza perché io voglio dimostrare anche sul campo. A breve arriverà, arriverà. Quanto era importante vincere oggi anche da un punto di vista psicologico per affrontare poi le prossime partite che non saranno per niente semplici? Allora, sappiamo che la Champions League è un campionato diverso e poi giochiamo in casa, dobbiamo vincere per forza le gare. Sappiamo che è stata una partita sporca, però abbiamo fatto bene, abbiamo approcciato bene e è stata una vittoria pesante. Salisburgo è una squadra molto rapida, molto fisica, praticamente instancabile. Fino all'ultimo minuto non ha mollato mai, quanto è stato complicato affrontarli oggi? È una squadra giovane che vuole spingere, sappiamo che negli ultimi minuti è normale le gare così, loro pressionano, però la squadra nostra abbiamo fatto benissimo. È stata una vittoria importantissima per Gironi. Grazie. Grazie mille. Ciao Stefan, nel primo tempo abbiamo visto tante buone chiusure difensive da parte tua e di Pavarro, soprattutto su Simic. Quanto sta crescendo l'intesa con il francese? Sì, parliamo tanto anche in campo, ci conosciamo sempre meglio, quindi questo è importante anche fare delle partite insieme, anche in allenamento. Abbiamo un buon rapporto anche fuori dal campo, che è quello che è importante, quindi dobbiamo continuare a crescere. State insegnando un po' l'italiano? Sì, un pochino, ma si vede che capisce anche da francese, dicono che si impara abbastanza veloce l'italiano, quindi è bravo, sono contento che è venuto da noi. Una squadra rapida, il Salisburgo, che ha attaccato tanto, ha provato spesso a scardinare la vostra difesa, ma non ci è riuscita, a parte sul gol. L'avevate preparata in questo modo? Quanto state crescendo dal punto di vista della solidità difensiva? Sì, l'abbiamo preparato bene, come dicevi tu, tanti giocatori rapidi in movimento, giocano con tanta intensità, dovevamo prepararci e l'abbiamo fatto, sicuramente c'è da migliorare. Sono stati bravi anche loro al gol che hanno fatto, ma penso che c'è ancora da crescere e da migliorare. Adesso dovete preparare un'altra partita fondamentale, che è quella contro la Roma. Esatto, ora cominciamo a pensare a quella partita. Grazie. Prego. Grazie. Grazie. Grazie.